Tre parole per descrivere il tuo lavoro, innovativo, manuale, creativo. Il mio lavoro, tre parole, stimolante, divertente, è sempre nuovo, ogni progetto è come una cosa di nuovo, innovativo, nuovo, è così, è un po' interessante, è un po' interessante e innovativo. No, è da un'altra, soprattutto per quanto riguarda il mio lavoro, poi un bel gruppo di lavoro, ci siamo quasi in fondo e domani facciamo la domanda. Sì, è una bella esperienza. Tre parole per descrivere il nostro lavoro, allora, stancante prima di tutto, affascinante e soddisfacente. Allora, creativo, visionario, colorato.